Perché ovviamente le angherie, i soprusi, le violazioni di legge compiuti dai giudici del Tribunale di Contro Passo sono talmente tanti e enormi che non posso pensare a una serie di errori così demenziali, che lo scusa ai dementi ovviamente, di sfondoni senza nessuna capacità intellettiva, perché questo posso pensare, oppure in alternativa devo pensare a problemi di natura diversa, cioè posso pensare a una volontà che tende ad altri risultati, che non quelli del bene dei minori, perché se no non si spiegherebbe un atteggiamento costante e perpetrato nel tempo. A che cosa allude? Alludo a tratta di carne umana, è una parola grossa ma tutti gli indizi portano a questo. Io mi auguro che chi ha avuto ruolo in questa storia abbia la volontà e la capacità per riuscire a discolparsi da questa cosa così grave, perché io mi assumo ovviamente in prima persona, come sempre, come ho fatto nelle altre 1700 querele presentate contro la pubblica amministrazione, tutte le mie responsabilità a fine e in fondo e quando questo l'ho fatto devo dire che mi ha sempre premiato per quanto ho deciso di fare. Va detto che in queste 1700 querele sto aspettando la prima controquerela. Mi auguro che in questo caso qualcuno abbia il coraggio di farlo e quando anche avesse il coraggio di farlo che riesca a dimostrare che io sto mentendo. Intanto il prossimo martedì, il 14 ottobre, ci sarà l'udienza in appello presso la Corte di Appello di Campobasso, però voi dalla stampa avete appreso oggi che è stato prorogato di altri due mesi il divieto per il papà di vedere i ragazzi in casa famiglia. Sì, esattamente. Il fatto, mi lascia veramente perplesso e stupito perché quello che non riesco proprio a capire, in aggiunta a tutte le altre cose che non sono spiegabili, è che questi signori, se è vero quanto affermato dal giornale Il Tempo, non abbiano pensato a depositare in cancelleria un decreto così importante come questo qui e che non ci sia stato notificato nulla. Cioè noi da parte del padre di questi ragazzi non abbiamo ricevuto ancora nulla. È assolutamente dissagrante del concetto del diritto il fatto che la stampa sappia di una decisione dei giudici prima degli diretti interessati. Questo veramente qualcuno poi ci dovrà anche qui spiegare come possa essere successa una cosa del genere.